Entrano nel vivo le festività pasquali, un lungo ponte che grazie alla collocazione bassa della festa nel calendario e all'eccellente innevamento ancora presente sulle nostre montagne, promette di dare impulso alla stagione del turismo invernale nelle stazioni scistiche di Valtellina e Valchiavenna. La maggior parte dei vacanzieri tra ieri e oggi ha raggiunto le nostre località prendendo d'assalto alberghi e case di villeggiatura, buone le prenotazioni che si confermano da tutto esaurito o quasi un po' ovunque. Qualche disdetta c'è stata, precisa Valtellina Turismo, ma si tratta di poche decine di prenotazioni declinate dai turisti mordi e fuggi a causa delle incertezze meteo. In realtà se domani si prevede un sabato ancora perturbato con l'ombrello da tenere a portata di mano, domenica tornerà il sole e pasquetta vedrà il cielo variabile ma con larghe schiarite. Un ripensamento che non influisce sul grosso degli arrivi permettendo così agli operatori turistici di fregarsi le mani e mantenere in perfetta linea il buon andamento di questa stagione invernale propiziato da ottime precipitazioni nevose distribuite nell'arco dei mesi. A Livigno proseguono dunque le settimane bianche da sold out, si prenota per meno giorni nelle altre località anche per brevi fughe dalla città. In testa gli arrivi lombardi che riconoscono alla provincia di Sondrio il loro ruolo di patria dello sci di casa. La permanenza media dei turisti nelle strutture ricettive di Valtellina e Valchiavenna è in media di quattro giorni. Domani l'ultima ondata di arrivi con l'esodo atteso tra lunedì pomeriggio e martedì. L'ottimo innevamento garantito dalla natura e integrato laddove necessario da qualche programmato consente a tutte le schiare di essere aperte a pieno regime a disposizione degli appassionati di sport invernali pronti a brindare alla Pasqua sulle nostre piste.